bella a tutti raga da Gavgamer74 sono qui con un video di ringraziamenti per gli iscritti ho raggiunto e superato i 50 iscritti il canale è stato aperto da pochissimo perciò sono veramente contento spero che continuate a seguirmi e come promesso dalla mia pagina facebook ho deciso di aprire un contest che andrà a premiare i primi cinque e ragazzi non sono tantissimi perché perché praticamente dove vado io comprare i giochi qui nel mio paese ogni qual volta che compro un gioco totalizza dei buoni sono arrivata una cifra di 30 euro che ho deciso di dispensare con 10 euro di ricarica al primo 5 euro al secondo 5 euro al terzo 5 euro al quarto e il 5 euro al quinto sono tutte ricariche che potrete andare utilizzare nelle vostre console una volta finito il contest il vincitore mi scriverà in privato che console ha e io non farò altro che andare a ritirare la vincita per poi dopo scrivergli in privato e dargli il suo codice di ricarica ragazzi partecipare al contest è molto molto semplice basterà essere iscritti sia al canale che alla pagina facebook per chi è già iscritto al canale è una passeggiata di salute perché la mia pagina facebook potete trovarla anche nel canale ragazzi che dire il contest si terrà domenica 26 giugno a fare l'estrazione ci sarà anche mia moglie io non farò altro che scrivere il vostro nome in dei biglietti e verrà sorteggiato il vincitore ne approfitto anche per salutare l'amico bayon gamer che ieri sera siamo andati a fare una partita su playstation 3 ricordo io sono un gamer che gioca tutte le console ci siamo divertiti tantissimo tra l'altro ho fatto un euro goal vi invito a andarlo a vedere e a iscrivervi anche al canale dell'amico bayon che dire ragazzi occhio al contest seguitemi domenica farò una diretta in settimana vi comunicherò con un altro video l'orario ok che dire se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like se non vi è piaciuto un dislike ragazzi al contest di domenica 26 giugno non mancate ciao a tutti da gaff gamer 74